ciao a tutti i ragazzi e ragazze bentornati sul canale di jored prima di proseguire con il video e vedere le carte di chi è stato eliminato vi invito se vi va di mettere like al video e iscrivetevi al canale per avere altri aggiornamenti iniziamo si è appena conclusa la registrazione della quarta puntata del serale di amici 23 tre le manche che come al solito hanno decretato i possibili eliminati di questa puntata nella prima manche a sfidarsi sono stati i cuccalo versus zerbicele a perdere sono quest'ultimi e va al ballottaggio finale pt nella seconda manche troviamo i cuccalo versus zerbicele questa volta a perdere sono i cuccalo e va a rischio eliminazione sara terza manche si sfidano i zerbicele versus i pettimondo quest'ultimi hanno perso e a rischio eliminazione va l'ilgioli quindi al ballottaggio finale abbiamo l'ilgioli sarà e pt quest'ultimo è il primo a salvarsi quindi l'eliminato e tra l'ilgioli e sarà quindi carte niente da fare ragazzi e ragazze l'eliminato è stato rivelato in caseta non ci resta che attendere la messa in onda della puntata per capire chi sarà l'eliminato e voi siete contenti del risultato di questa puntata scrivete nei commenti e ditemi la vostra per il momento ho concluso questo piccolo video news un grosso abbraccio alla prossima news